Belen Rodriguez deve iniziare a temere il peggio. L'allarme è stato lanciato, e il suo ex Antonino Spinalbese è pronto a tutto Belen Rodriguez è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani durante le prime settimane di settembre con, una nuova edizione di Tussiche Vales La bella modella argentina ha trascorso qualche giorno di relax, in modo da poter ricaricare le energie, e viversi a pieno questa nuova stagione televisiva La bella modella argentina ha trascorso qualche giorno di relax, in modo da poter ricaricare le energie, e viversi a pieno questa nuova stagione televisiva Purtroppo però il tutto potrebbe non svolgersi nel migliore dei modi in quanto il suo ex fidanzato Antonino, Spinalbese farà il suo debutto sul piccolo schermo degli italiani, ed è intenzionato ad essere più agguerrito che mai, concentrandosi soltanto sul suo futuro, il grande fratello Vip A rivelarlo è il portale The People Gossip annunciando una notizia che è pronta a confermare che l'ex di Belen è più pronto che mai a tramare vendetta Antonino Spinalbese pronto a tutto prima del GFVip, Belen Rodriguez avvisata Il portale diretto da Gabriele Parpiglia rivela infatti che Antonino Spinalbese ha deciso di troncare la sua relazione con la nuova compagna per dedicarsi esclusivamente ai suoi progetti futuri, tra cui l'ingresso nella casa più spiata d'Italia Ingresso che fin dal primo momento non è mai stato visto di buon occhio da Belen Rodriguez, che prima del ritorno in tv è stata protagonista di una disavventura, che non voleva affatto vederlo al grande fratello Vip pronto a raccontare i suoi segreti più intimi Tant'è che si vocifera che lei lo abbia annunciato azioni legali nel caso, ma lui sarebbe ugualmente pronto a raccontare la sua versione della storia senza fare nomi ma facendo richiami, espliciti, a quanto è accaduto tra lei e la showgirl Antonino Spinalbese prima del GF Vip ha voluto lasciarsi il passato alle spalle Ora, infatti, non ha più nulla da perdere e sembrerebbe aver confermato il gossip che lo vedrebbe provare non poco rancore nei confronti della sua ex e per questo spifferare che cos'è successo realmente tra loro prima del ritorno di fiamma di Lei con Stefano De Martino Ritorno che ha mandato in tilt, gli utenti della rete.Cosa ne pensi delle notizie di qui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace, e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video Ciao